Eccoci qua Oh, non si vede? Si si vede Allora L'ultima volta Abbiamo fatto 4 su 8 Dei capitoli 3 Sono pronto già per fare qualche capitolo 4 Ma Vorrei fare le cose in ordine per tutti Ho completato la storia di Tyrion Ma su Regivia C'è da fare anche la storia di Holbeck Al 32 Io sono al 790 Vediamo se trovo Herdnart 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 È stata la vendetta A guidare Herdnart E oggi è bella la vendetta Non la dobbiamo inserire per cose combatte Anche Herdnart Abbiamo i protoscopi nella vita Bene, bene, bene Siamo a Surgiglia Ora Come faccio a trovarlo? Si trova proprio qui Va bene Chiedere in giro È facile Tu Dimmi dove era Herdnart Uh, l'ha trovato Just so Oh, yes Well Uh, l'ha trovato Thank you Allora Andiamo avanti Vediamo cosa ne sa questo signore Ciao 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 Quindi Erhard in realtà Sembra buono E per ultimo Il vecchio Well met Aye Whoa Oh what? The fuck? Hmm As you wish Andiamo in luogo appartato La caserma Sono già stato qui dentro Albert Eisberg Come spada in principio di Visburgo Vuole trovare l'ordera Contempo compagno e cavalei in quel medesimo regno Beh non è una menzogna Di sua signoria La verità è Vedi? Che cavolo è la guardia Capitano Bale Wow Quanta atmosfera fa la musica Quanta atmosfera fa il silenzio In fact I see Veri And so I see Yes Oh Oh No, no, in fact... Oh, ok... Oggi come voi. ma come chi è appena detto stupido ma sei merda come dice la niente vabbè il tiro non dice sarebbe il caso di derubare tutti o comunque è figo che non mi faccia che non mi blocchi dentro sul gina ma andiamo fuori anche se questo potrebbe essere il fuori finto effettivamente dai quanto male gli ho fatto un gazzo no qualcosina si quanto male gli ho fatto qualcosina si quanto soldi ho rubato pochino pochino ho visto di meglio posso vetturarli no cipolli bellissimo che non come si non c'è nessun danno cadono Non li ho derubati Oh, sono un astro Ok Il mio turno Mi apprezzato Che cosa è questo? Che cosa è questo? Che cosa è questo? Bene 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 Lo faccio Oh Come chivarli Sembra che sono gli alieni qua Oh, shout Ah, non ci sarà senza Oh 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 Out of my way What the fuck Allora, su Cura E ti rionnora di mettere poste Oh, shottali se non Questa è una cosa Che cosa è una cosa Perfetto In questo modo Che avrai finito Nessun Io al posto di programmazione ne vorrei farei 5 di questi scopi 2 5 Ne avrei fatti hm Oh, oh no è a a a a a a a a a Ah Flashback Ok come ne liberami perfetto ora da qui una volta di liberato fantastico ok ok come in ok never miss Non era considerato questo... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Non vedi che sape livellare finquanto uno. Oh, what the fuck? Standest thou against me? Then be hunted. Now, I will cut you down! Out of my way. I appreciate the will. Letting the hunts beginning. The victory shall be out of my way. Do not settle this like gentlemen. Do not settle this like gentlemen. I will cut you down. My turn. Keep it up. I will cut you down. 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 Ah ma ci sono le scale Ok Buono Ho due turni Invece che uno Vittoria Ah Il frutto della guerra Comunque mi sembra fin troppo Però ci rispetto alle altre storie Oh Andiamo a salvarlo Herat Obrick Asus What in the name of the gods are you doing here Let's deal with these first We can talk later Fair enough Oldbrick Older How long has it been, Erhart? Long Too long I need to That sounds close I don't think they'll venture this far Those are the leaders of the Horde If we slay them The rest will be easy to Ok I'll take the right Then the left is mine Dai Carini These beasts Are more cunning than they look When they fight together They are stronger than the sum of their parts Try not to get yourself killed Likewise Olberick Missed to the left To the left Ah Cagare Ah Wow Pla Ma me lo schiantano così il boss Ok Si inizia a parlare e io mi pazzisco Ora Mi ha fatto altro che proteggere chiunque Spero non trovia forse di proteggere Finalmente Prepari tu Non farò La battaglia è davvero giocata Uno Inizia Due Analizza Perfetto Trovalo Quattro Vincolo vampirico È la cosa migliore Scusate Muro incrollabile Chi di loro posso derubare? Lui non si può derubare Lui non si può derubare Voltiamolo Ho fatto pochissimo danno Vai Vai Non è possibile rubarlo O Lui Il Perfetto 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 Però resta andando tutto bene Oh, ne è caduto uno, tra l'altro Oh, no, no, no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Non camminare Corri Non camminare 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 come tu, ho portato la mia mente per proteggere altri Erewhart, non posso stare qui e intendo a capire cosa ti ha fatto come hai fatto e mentre ho cercato il mio cuore, ho trovato nulla per la scoperta ho trovato un modo io dovrei aver costato il tuo giorno, la victoria dovrebbe essere mia allora e solo allora potrei salvare il nostro amore e tu, da quel monstero che hai diventato hear me Erewhart, questa volta non perdere draw il tuo оружio Erewhart, per i guerriori come noi non c'è nulla per la scoperta non c'è nulla per la scoperta posso dire che ho apprenduto dei miei errati ma poi, non mi sono certo non, dovremo fare la scoperta tu non prendere il loro, eh, vecchio amore non ho avuto di nulla per la scoperta so be it in victory truth i will not fail have at you da fuck stand firm oh fuck oh fuck no, fuuuu i i i i i i i E senza Non è vero che era Sì, mi arrendo! E' una cosa strana. Ancora ho combattuto con tutte le mie forti, era come se fossi protegito da un più grande potere. Aspetta, adesso mi arrendo e non l'ho ucciso. E ancora, per la prima volta in così tanto che mi ricordo, non mi regretto di nulla. Io... Dicami una cosa, Herr Hart. C'è chi è? Il leader della tua piccola band. Il ragazzo che ha trattato il fallo di Hornberg. Olverick. Develo a me. Ha trattato un giro entero. Il nostro giro. Chi sa che cosa stanno trattato adesso? No... 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 Such a fiend is too dangerous for this world. I will stop him. I must. This is the cause you found. Just so. The man's name is Werner. Werner. Where can I find him? After the fall of Hornberg. He set up for Riverford. Guadalino. After that. The gods only know what became of him. That's all I need to know. Men like that leave a trail. Whether they mean to or not. The record. The record? Until someone stops them in their tracks. No, 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 no. No, 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 no WTF? Che cosa stramba? I disagree! Fa il corrotto? No. 1,55 quindi 25 minuti fa. No. La cosa buona è che Potevo salvare Potevo salvare E facciamolo Oh ciao Potevo salvare 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 E hanno Vistuto pure una storia simile Solo che L'amico di Cerion Continua ad essere In pezzi in merda Allora abbiamo tre minuti Non riesco a chiudere Un dungeon Ma siccome abbiamo fatto Un po' prima oggi Perché ho gestito Un po' meglio il tempo Se quello è un dungeon Con il lucertolone Sotto il livello 45 Lo faccio Non quello che mi manda giù O non devo andare giù Dove è Guadalino Tra l'altro Penso tipo qua E infatti Sembrava Qualcosa che ricordasse Il fiume Siamo più forti o più scarsi? Scarsi Ma comunque Molto resistente Oh yeah io Che provo a mettermi le robe dentro Chi ce la fa? Comunque 37 Una cosa Una cosa Sarebbe anche il caso No Bene Bene Come on I've got better things to do Come on BOOM BOOM No No Poi ho 600 danni a Muzzo Ho preso altri 600 danni a Muzzo Senti Almeno Quanto No, non mi juro neanche Zeros 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 Posso andare là Senti Senti Impatti e mi gritta pure perchè se è nuovo il cavolo c'è un po' di più 51 Syrus Ah, tra l'altro a che livello? 45 come gli altri 1 I will cut you down! Pfff, buono Outta my way Fail in touch Now Attempt this A nice bell range Not bad I pass it Not bad It's not bad Non lo prendo mai Uguale per questo Magari così ogni tanto Capita che forse Dentro 40 Ok, 40 me lo raccollo 40 Era una sfida Qualche livello fa Adesso 40 Li conosco tutti tra l'altro Che allora Oh Allora two Qui 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 Ci Qui 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 No Non ci danno 500 Un po' più Penso sia al 38, il che è molto positivo Oh, a te volevo Un'altra ascia ancora 192 Se c'è lui Un'altra Un'altra No pensavo ma io non dovrei pure fare catturarne un impatte nessuno di questi è caduto addirittura stanno benissimo hai un tentativo basta compito non 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 Grazie Molto complicato Molto complicato Se al massimo avevo il 3% Indubbiamente Molto complicato No 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 Tirion Tirion nell'ultimo Dai Ok Ok No No Ok Non mi ha preso Non mi ha preso, si invece Que cazzo ha tirato No 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 se tu sei pronti, quindi sono io oh oh turner in turner oh 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 ok 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 2 ok 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 Vabbè Distrutto Era considerato Mi spiace per il tuo critico Maveglia Mi spiace per il PA Maveglia Mi spiace per I tetti Tu puoi dormire Mi spiace per il PA Maveglia Non lo posso fare Vabbè Guarda Verrei con piacere Ma No Sorry Mi spiace per il PA Allora Allora Vabbè Indomabile Vabbè E non dormiamo Vabbè Loro due si Fuck Vabbè 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 Dice Vabbè Ma non uso Ma Stiamo bene Stiamo tutti bene Vorrei dare qualche pipì Cosa che non faccio mai A te Perfetto Così Pulvi da tutto Che bello Guarda il mio piede danza La battaglia è davvero giocata La battaglia è davvero giocata E' un po' che cosa stasano da? non dorme qui non dorme Ah La battaglia è davvero giocata My turn I see The hunt's beginning Thy wombs are here Time to steal the show 9000 25.560 Si può raccogliere però Ok Allo decine Insieme È fuori controllo Doveva ragionissimo a dire Che fosse fuori controllo Dove è Ma Possiamo costruirci I see I see What next? The battle is truly in the right way, is it ivory cavig upon me? ok 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 dovrei avervi il suo turno e ci sveglia ok 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 ero papile Ehm... Una di speciale. No! 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 Stupido! Tu rubi! Stupido! E ora preghiamo che non ci uccida... Non ci faccio! 6.000! 2.000! 2.000! Fantastico! Siamo tutti vivi! Ottimo! Annaggia! Salvarci! Cadi! Non cade! La battaglia è davvero giocata! Oh oh! Sì! Sì invece! Uccide! Ora mi mangio sempre! Sì! 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 Per nulla forte! Ma? Sì! 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 Ok! Perfetto! Sì! È l'orario di staccare! Quindi controllo... Ci sono cose che ci siamo persi nella caverna! E poi stacco! Sì! Sì! Non lo so! Sì! Sì! Guarda che sono a... ...75! Oh perchè ancora è su quello! La troverai... Cosa è successo? Allora questo è il piano Tu non hai più bisogno della pietra veglia e torni con il tuo pia max Mentre tu non hai più bisogno della pietra veglia e torni con il tuo pia max E' nitta il 39 alla fine di questo Ok Dai più babbo di tutti questo No Sembra babbizza Un nego che sembra babbitto Un'ottima l'esistenza dell'altro Quattro mila trecento E se volessi catturarlo No non è niente Prova Il 10% poteva capitare Eeeh Alberic ha fatto più livelli di Cyrus come mai questa cosa Quattro mila trecento Quattro mila trecento Ma non è niente a proposito ma soldi invece come siamo messi? qui di 200, qui di 200 è troppo come on i've got better things to do come in, if thou dar'st come back great perfetto 22 è un numero alto Oh E andiamo qui Dove la storia Sembra la più debole Qua Qua E' il nostro giro Quindi alto piano Ma sono 1 ora e 30 Ah vabbè, ho fatto 1 ora e 30 Sembra 193 Va bene A questo punto salvo Direi che Questo è stato un lungo episodio Che ci ha portato a scoprire la storia di Olberic Questo passato con Hera E' il suo perdono in qualche misura Mancano 3 capitoli 3 Faremo anzitutto Silos Seguito da Hanit Seguito da Alfin per ultimo Anzitutto al 39 Quasi al 40 Sono sicuro che posso apprendere altre robe Di poco Di poco Per quello che vale Noi non facciamo questo momento Va bene Io direi che stacco per oggi Buonanotte a tutti quelli che mi hanno seguito fino a questo momento Adios Adios Grazie a tutti